Non arretrano di un centimetro, chiedono di rivedere quell'anomalia definita un unicum in Europa e promettono battaglia legale. Sono 30 dei 36 club di serie D che sarebbero retrocessi a tavolino per effetto delle scelte indicate dal direttivo della Lega Nazionale Direttanti e avallate dal Consiglio federale della FIGC, con quattro retrocessioni per ognuno dei nove gironi in base alle classifiche al momento dello stop dell'1 marzo per l'emergenza coronavirus, diventato poi definitivo tre mesi dopo per scelta della Federcalcio. Decisione che i componenti del gruppo serie D Salviamoci, che include anche tre realtà del girone H come Agropoli, Nardò e Grumentum, queste ultime due condannate all'eccellenza solo dalla peggior classifica avulsa nei confronti della Nocerina, vedono come improvvida le conseguenziali determinazioni altrettanto sconcertanti della FIGC, così come le chiamano, hanno completato l'opera. Al via, allora, azioni giudiziarie nei confronti di Federcalcio e LND a confermare una frattura aperta con il numero uno dei dilettanti, Cosimo Sibilia. Siamo sconcertati davanti a un ostinato comportamento degli organi istituzionali, scrivono i firmatari. Non hanno avuto l'adeguatezza e la sensibilità di cogliere le effettive dinamiche dello sport in fase di pandemia. A ciò si è accompagnato, scrivono, un disarmante atteggiamento di autoreferenzialità e rifiuto al dialogo, poco consoni per chi dovrebbe rivestire certe cariche. Di fronte al rifiuto di un confronto faccia a faccia, atteggiamento già stigmatizzato ai microfoni di Telesveva dal presidente del Nardò Salvatore Donadei, il passo successivo è quello delle aule di giustizia, con un iter più veloce rispetto al passato, stabilito dal decreto rilancio del 13 maggio. Si potrà ricorrere solo al collegio di garanzia dello sport e se la decisione del collegio non dovesse soddisfare la società ricorrente, sarà possibile appellarsi al Tarlazio. Dalle porte da calcio a quelle dei tribunali, la Serie D si prepara per un'altra estate rovente.